Eh sì, direi che ci ho preso gusto. Dopo aver assaporato poco tempo fa l'antipasto rappresentato dal modello Bookshelf, adesso sono pronto per la portata principale. Un caloroso benvenuto a Casa Audiofilando ad un nuovo esponente della nuovissima serie R-Meta di Kef. Sto parlando di un modello da pavimento questa volta, le bellissime R7. L'antipasto, a dir la verità, da solo valeva tutto il pasto. Per chi se lo fosse perso lascio qui sopra un link alla review delle R3-Meta, diffusore che davvero mi aveva impressionato. Oggi direi che alziamo il tiro. Infatti, con buona pace della mia schiena, avremo a che fare con un modello da pavimento, in particolare le R7-Meta, altro esponente dell'apprezzatissima serie R della Casa Inglese. Sono molto curioso di capire se le ottime impressioni che avevo avuto col Bookshelf R3 verranno confermate, o meglio, migliorate da questo modello da pavimento. Per le sue dimensioni, per il suo litraggio, infatti, questo modello, le R7, sarebbero più adatte a un ambiente di queste dimensioni. Si potrebbero sposare meglio, quindi, con le caratteristiche e le esigenze di questa sala d'ascolto. Quindi, a questo punto, direi di partire. Come forse avete potuto già intuire, la finitura di questi diffusori è diversa rispetto a quella dell'R3-Meta. In questo modo, abbiamo avuto la possibilità di valutare anche un'altra tonalità di colore, dal vivo e non solo in foto. Sicuramente si tratta di aspetti che con la qualità sonora non ci azzeccano assolutamente nulla, ma sicuramente ci azzeccano con il nostro Kyoto Vivere domestico. Cerchiamo di accontentare chi vive con noi, almeno sul colore. Come potrete ben immaginare, l'unboxing di questi diffusori delle dimensioni abbastanza importanti l'ho fatto lontano d'occhi discreti, ma non temete, ho documentato tutto con delle foto. Ovviamente, come potete immaginare, i due diffusori arrivano in due imballi separati, ingombranti, importanti. KEF, comunque, dedica sempre molta attenzione alla questione imballo. E anche questa volta, come già era successo per un altro modello da pavimento, l'LS60 Wireless, per cui vi lascio un link qui sopra alla review. Anche questa volta abbiamo un imballo molto ben pensato, molto ben realizzato, che permette il disimballo anche da una persona sola. L'aspetto della spedizione dell'imballo della conservazione e della cura dei prodotti è spesso trascurato dalle grandi case. Nota di merito, quindi, agli ingegneri KEF che hanno curato anche questo aspetto. Il disimballo, la cui corretta sequenza viene rappresentata anche da delle immagini ben chiare stampate sul cartone esterno, avviene inizialmente sdraiando il diffusore a terra. Mi raccomando, mentre fate questa operazione, fate molta attenzione a lasciare i blocchi di fissaggio a sgancio rapido rivolti verso l'alto, in modo da poter essere accessibili. A questo punto si può aprire l'imballo sia sopra che sotto. Aiutatevi con un cutter ad aprire questi folder come se fosse una caramella. Agendo a questo punto sui tre blocchetti di fissaggio, operazione molto semplice, abbiamo la possibilità, appunto come una caramella, di aprire completamente l'imballo, liberando il diffusore. Lui è ancora pinzato negli elementi di fissaggio e di protezione superiore e inferiore. Ci sono, cosa molto importante, anche quattro angolari rigidi che proteggono i quattro spigoli dell'imballo da eventuali urti. E quindi nessuna botta potrà danneggiare il diffusore. Lateralmente, e pizzicato tra i due riempitivi superiore e inferiore, abbiamo anche una scatola che contiene le coperture fonotrasparenti. A questo punto, ancora con le protezioni superiore inferiore montate, si può riportare il diffusore in posizione verticale, ma attenzione a testa in giù. Nel riempitivo inferiore, infatti, è contenuta la scatola degli accessori. In essa ci sono tutte le parti che vanno assemblate sulla parte inferiore del cabinet, quindi piedini, punte, sottopunte, e che vanno montate prima dell'installazione finale nella punto d'ascolto. Nella scatola degli accessori troviamo, ovviamente, anche la manualistica, con tutte le istruzioni relative a tutta la serie R, anche in italiano. Sull'altro riempitivo del lato opposto è contenuto anche la doppia coppia di spugne morbide che vanno inserite all'interno del condotto Reflex nel caso di installazioni difficili. Parlo di posizionamenti troppo vicini alla parete posteriore o laterale e, comunque, facendo riferimento al manuale, saprete quando inserire questi condotti per la resa migliore possibile del diffusore anche in queste condizioni. A questo punto si può sfilare il riempitivo inferiore. Ora sì che si può accedere alla base del diffusore liberandolo dal panno morbido di protezione. In questo modo possiamo installare, è molto semplice, i piedini, quelli che sosterranno il diffusore e lo terranno verticale. Installare il piedino? Molto semplice, semplicissimo. Infatti basta porre la spina di centraggio nell'apposita sede, orientare il piedino nel modo giusto, allinearlo e avvitare la singola vite. Attenzione, quando avvitate la vite, a non dimenticarvi la copia di rondelle piana ed elastica. Una volta fissate le quattro staffe di supporto, ad ognuna di esse va avvitata la punta. Ciascuna di queste punte ha un grano trasversale che consentirà di fissarla in posizione una volta regolata l'altezza e la planerità del diffusore. A questo punto una bella capriola per riportarla in posizione consona e posizionarlo in piedi correttamente nel punto finale con le sottopunte tra loro e il pavimento. Curiosi di dar loro uno sguardo più da vicino? Io sì, ma prima che ne dite di mettere un bel pollicione su a questo video e a iscrivervi ad Audiofilando? Fate crescere la grande community di Audiofilando, contiamo su di voi e sul vostro aiuto. Ecco a voi le KEF R7 Meta. Ve le faccio vedere inizialmente a figura intera così potrete intuirne le dimensioni anche perché le vedete affiancate alle nostre Olimpica 3. Diffusore dalle dimensioni relativamente importanti ma comunque snello che si potrà integrare facilmente nel vostro salotto. Andiamo adesso a fare uno zoom sulla parte più interessante ovvero la sezione del cabinet che alloggia i driver. Copertura fonotrasparente e semitrasparente dal design molto particolare che ricalca quella che abbiamo già visto sull'R3 Meta, le sorelline più piccole da scaffale. Logo KEF sulla parte superiore, struttura piena dove non è l'area di interesse dei driver e questa sorta di vedo non vedo che colpre il sistema a tre vie che andiamo a vedere meglio adesso. Sistema a tre vie composto dal driver Uniq con Twitter e mid concentrico che è comune a tutta la serie R di KEF. Questa volta però è accompagnato da ben due woofer. Come vedete sono disposti simmetricamente in simmetria perfetta uno sopra e uno sotto al driver Uniq. Questa simmetria lascia intuire una capacità di ricostruzione della scena assolutamente perfetta, tipica del suono KEF. Un ulteriore zoom per farvi vedere ancora più da vicino, un'ultima volta questo driver tipico e caratteristico della casa inglese. Scendiamo ancora di più perché voglio farvi vedere la struttura dei piedini. Bianchi come il cabinet ma ovviamente verniciato su metallo e quindi ha una finitura, un effetto alla vista leggermente diverso. Come abbiamo visto si avvitano qua sotto, l'abbiamo visto durante l'unboxing, formando una struttura AX. Infatti i piedini anteriori questi sono orientati verso la parte anteriore e quelli posteriori verso il retro. Nonostante il cabinet sia molto snello quindi questa apertura AX appunto rende il cabinet molto stabile e molto solido. Insomma facendo retromarcia inadvertitamente non rischierete di buttare la terra col sedere. Sistema punta e sottopunta che non è molto tipico della scuola inglese ma che a me piace molto. Visto che siamo scesi fin qua giù ne approfitto per farvi vedere l'interfaccia di connessione verso l'amplificazione. Stessa identica topologia che abbiamo già visto per l'R3 meta quindi con doppia coppia di connettori quindi predisposto per il bi-wiring e geniale sistema di ponticelli nascosti che non devono essere rimossi ma possono essere attivati o disattivati per mettere insieme la sezione dedicata alle alte e basse frequenze ruotandoli. Per concludere vi faccio vedere la particolarità del doppio condotto reflex posteriore quindi la simmetria totale che abbiamo visto sul fronte per i driver lo troviamo anche sulla parte posteriore per il caricamento reflex. Simmetria sull'asse verticale ma non su quello orizzontale infatti come vedete i condotti reflex sono spostati verso un lato del cabinet. Questo distingue i due diffusori tra loro, i due canali tra loro. Sul manuale utente non ho trovato indicazioni se il canale destro deve essere uno o l'altro quindi se i due condotti reflex debbano essere tenuti verso l'esterno dell'area di riproduzione o verso l'interno, verso l'interno della scena. Vi suggerisco di sperimentare a casa vostra quale sia la configurazione e il layout più corretto per il vostro ambiente. Veniamo ora al dettaglio tecnico approfondendo le loro caratteristiche peculiari, i loro numeri. Diffusore a tre vie con sezione medio alta assegnata al driver Uniq come da tradizione Kef arrivato alla dodicesima edizione su queste R-Meta. Non ne avevamo parlato in occasione della review delle R3 ma l'anello di congiunzione tra driver e cabinet non ha solo una funzione estetica. La sua particolare forma di raccordo dolce tra driver e cabinet infatti funge da guida d'onda e ha un nome Shadow Flare. Permette infatti di evitare delle fastidiose diffrazioni del suono che sarebbero dovute alla forma spigolosa del cabinet. A proposito di cabinet grande cura è dedicata al suo design. C'è infatti tra esterno e interno un'alternanza di parti estremamente rigide con altre smorzanti più morbide. Il tutto progettato e studiato per limitare le vibrazioni indesiderate all'interno del cabinet. Tornando all'Uniq abbiamo la classica combinazione tra cupola in alluminio da 25 mm e driver per le medie in questo caso da 125 mm sempre in alluminio. Doppio woofer da 165 mm. A queste tre vie in totale sono associati due condotti reflex questa volta, entrambi con la tecnologia flexible port che consente di mantenere la pressione costante all'interno del condotto reflex al variare del flusso. Le frequenze di crossover sono posizionate a 400 Hz e a 2400 Hz. Risposta in frequenza nel classico range più o meno 3 dB va dai 48 Hz ai 28 kHz. Il diffusore è in grado di scendere sia a 33 Hz ma con una perdita di efficienza di meno 6 dB. La distorsione armonica dei diffusori dichiarata nel range tra 76 Hz e 110 Hz è inferiore all'1%. Scende invece al di sotto dello 0,5% tra 110 Hz e 20 kHz. Impedenza nominale di 4 ohm e sensibilità di 88 dB per questi diffusori a torre. Veniamo per finire alle loro dimensioni di massima, vale a dire con i piedini installati. Abbiamo 1109 mm di altezza per 311 di larghezza e 384 di profondità. La larghezza del corpo del diffusore in realtà, escludendo i piedini, è solo di 20 cm. Si tratta di un diffusore molto importante e quindi sono molto contento di farvelo ascoltare nella posizione ideale in combinazione con la Q-Phase 800 che sicuramente saprà tirare fuori il meglio da questi diffusori da pavimento. Li testeremo tramite i soliti quattro brani tipici caratteristici delle prove d'ascolto di audio filando e utilizzeremo per farlo Rune. Rune è la piattaforma software che utilizzo da un po' di tempo per la mia musica liquida, qui in questa stanza e in tutti gli impianti sparsi per casa. Lascio qui sopra un link alla review per capire meglio cosa possa offrire a voi questa piattaforma software e vi lascio qui sotto in descrizione un link per accedere al periodo di prova gratuito. Provate voi stessi. Il resto della catena audio in senso stretto, a parte il software Rune è composto dal dispositivo Rune Ready Blue Sound Nod che fungerà da sorgente e dal DAC Topping D90. Questa volta tramite Rune Core andrò a pescare i brani direttamente nella libreria infinita di Kobuz, servizio musicale che abitualmente utilizzo in questa casa. Siamo pronti quindi ad ascoltare questo interessantissimo impianto. Non prima però di quelle che io reputo importantissime istruzioni per l'uso di queste prove. Prendetele sempre con le pinze perché l'unico modo per capire piaccia o meno ascoltarlo dal vivo con le nostre orecchie? La registrazione è effettuata posizionando là il nostro Zoom H4n Pro. I brani vengono registrati in formato WAV 24 bit 96 kHz. Dal momento che pubblicare prove d'ascolto su YouTube è diventato impossibile per motivi di diritti d'autore troverete in questo video solo un piccolo piccolissimo estratto delle prove d'ascolto. Invito chiunque fosse interessato ad approfondire ad andare qui sotto in descrizione. Lì troverete il link al canale Telegram di Audiofilando in cui ho pubblicato la registrazione completa di quattro brani di generi diversi. Ed ora sì che siamo pronti per partire con la prova. Ok veniamo alle mie personali impressioni su queste bellissime torri. Firma sonora KEF riconoscibile e ben determinata. Trovo nella riproduzione la stessa eleganza che ho già evidenziato parlando delle sorelline minori. Dettaglio e ricostruzione della scena impeccabili. Pulizia nella riproduzione di tutte le sfumature delle nostre canzoni preferite. Nulla di nuovo quindi da questo punto di vista è la solita qualità che già mi aspettavo parlando di diffusori di questa casa inglese. Rispetto alle R3 comunque abbiamo un woofer in più per ciascun diffusore. E soprattutto più litri all'interno del cabinet che si traducono in una risposta più corposa delle basse frequenze, come giusto che sia. Attenzione non sto parlando di bassi più profondi ma di bassi più presenti. Questo significa che sicuramente si tratta di un bene in ambienti d'ascolto medio grandi come può essere questa sala d'ascolto. La risposta dei diffusori risulta più godibile e appagante, c'è più ciccia insomma. Questo corpo però potrebbe non essere in termini assoluti un bene in ambienti più piccoli in cui una risposta eccessiva sulle basse frequenze, una presenza eccessiva sulle basse frequenze potrebbero imbombare. Piccola parentesi che apro ogni tanto per dire che non esiste in assoluto un diffusore migliore di un altro. Non ha senso nemmeno porsi la domanda se non ci si domanda prima, se non si tiene in considerazione prima l'ambiente in cui questo diffusore verrà posizionato. La soddisfazione finale si ottiene assecondando i propri gusti, ok, ma soprattutto scegliendo il diffusore più adatto al proprio ambiente d'ascolto. È facile? No, per niente, ma sicuramente importante, molto importante per la vostra soddisfazione sonora. Estetica curata e tratti distintivi Kef. Vediamo cosa abbia da dirci Elena in più su queste R7. Allora abbiamo recensito da poco, pochissimo tempo le sorelline minori di queste R7 meta, quindi le R3 meta. In questo caso abbiamo la finitura bianca, quindi è un'ottima occasione anche per vedere un'altra finitura di questa linea R meta. Il bianco in questo caso ha il pannello fonotrasparente che non è nero ma è un bellissimo grigio. Ovviamente stesse caratteristiche estetiche per queste R7 rispetto alle sorelline minori, ma chiaramente qui stiamo parlando di un diffusore floor standing e quindi abbiamo una base di appoggio che è a forma di X, come abbiamo già visto nelle linee della Kef, molto bella, molto moderna. Belle le proporzioni di questo diffusore perché sono molto armoniose. Laccature, come già detto, molto ben eseguite in questa linea della Kef, sono veramente molto curate. Via il pannellino fonotrasparente che ha sempre le stesse caratteristiche che abbiamo già visto, quindi cieco dove non incrocia i driver e invece microforato con questa microforatura a cerchio a sezione circolare molto molto bella. Ma via questo pannello e guardiamo il diffusore in tutta la sua bellezza. Ritroviamo le stesse solite caratteristiche che ci ha abituato a vedere la Kef, quindi centrale questa volta il suo driver inconfondibile Uniq, molto molto belli i colori, sono tutti silver satinati molto molto bello in contrasto con questo bianco lucido. Anche per questo diffusore quattro finiture diverse, il classico nero che abbiamo avuto la possibilità di vedere nelle R3 Meta, questo bianco sempre glossy e poi il noce che accomuna entrambe le linee. Questa volta, a differenza delle R3, abbiamo come special edition non più il blu, ma un titanium che è favoloso. Attenzione però perché se volete acquistare la linea Kef R Meta per allestire il vostro impianto home theater, oppure un mix and match, fate attenzione alle special edition perché hanno colori differenti, quindi se avete questa intenzione vi consiglierei di andare un po' più sul classico, quindi bianco, nero o noce, in modo tale da poter avere questa tipologia di finitura in tutti i modelli della linea R Meta. Non mi dilungo di più, le abbiamo già viste con le loro sorelline minori come già detto, bello, un bel diffusore, quello da pavimento ha veramente un bell'impatto, ma ripeto delle proporzioni molto molto eleganti. Quindi chi potrebbe essere il possessore ideale di questa coppia di diffusori? Partiamo ovviamente dal prezzo, come quasi sempre facciamo. 5.000 euro, tonde tonde, il loro prezzo di listino. A tal proposito vi lascio qui sotto un link per il loro acquisto diretto sul sito di iFight. Tanto? Poco? In linea col mercato per questa categoria di prodotto? Ognuno ha la propria opinione quando si tratta del prezzo di un diffusore. Ognuno ha la propria opinione quando si tratta di rapporto qualità prezzo. Io cosa vi posso dire? In base alle mie sensazioni personali la qualità di questo diffusore è alta, molto alta. Quindi se il prezzo è in linea col vostro budget e con le vostre esigenze, beh è un diffusore da tenere in seria considerazione per il vostro impianto. Legandomi al discorso appena fatto, fate sempre attenzione, sempre, all'ambiente in cui le andrete a posizionare. Se vi piace il loro suono, ma la stanza è di piccole dimensioni, direi che saranno molto più che sufficienti le R3 meta. Ma se l'ambiente lo consente, le R7 meta ovviamente potranno esprimere e farvi godere una qualità d'ascolto sicuramente superiore. Altro grande campo di impiego di queste R7 meta e di tutta la serie R in generale e per impianti home theater. A tal proposito sarei molto molto curioso di sapere se ci sia all'interno della community di Audiofilando qualche membro che ha realizzato il proprio impianto home theater utilizzando diffusori di questa serie. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Descrivete nel complesso il vostro setup home theater, perché no? Ricordate che la vostra esperienza, la vostra conoscenza può essere un valido aiuto per tutti i membri della community. Bene, direi che per oggi io ho finito. Non mi resta che augurarvi buoni ascolti e ciao!